L'anima silenziosa dei territori, dei comuni, coloro che non hanno paura di nulla o quantomeno non lo lasciano a vedere. Stiamo parlando della protezione civile ed in particolare della PIVEC, che ormai da anni si occupa di molteplici compiti di pronto soccorso in caso di calamità naturali, gestione dell'emergenza per finire con la semplice assistenza alla popolazione. La PIVEC, che come tante si è ritrovata ad affrontare anche l'emergenza zona rossa, grazie all'esperienza maturata negli anni è riuscita a creare una sinergia tra i comuni di Farindola, Montebello di Bertona, Civitella, Casanova e Villa Celiera, sviluppando il modello COI, centro operativo intercomunale, sfruttando una sola regia che permette di essere presente sul territorio comunale ottimizzando materiali e mezzi. Il coordinatore Vincenzino De Berardinis. Sì, effettivamente è stato complicato all'inizio, questo devo dirlo, però diciamo con lo spirito di coordinamento abbiamo attuato il famoso discorso COI su quattro comuni, siamo riusciti ad avere la sinergia dei quattro sindaci che loro, diciamo, in modo speditivo ci hanno comunicato l'effettiva necessità che in quel momento si ravvisava sulla zona e noi prontamente siamo stati capaci di prendere atto di tutto quello che succedeva. Da sempre siamo abituati a trattare l'emergenza, questa però è un'emergenza subito, è un'emergenza che non riesci a vedere, ti arriva di colpo e non riesci a prepararti. Comunque sia stiamo cercando la prevenzione, con la sanificazione e quant'altro di cercare di arginarla questa cosa. Purtroppo è così, ripeto, noi siamo abituati a terremoti, a catastrofi, abbiamo esperienze anche all'estero, ma questa proprio non ce l'aspettavamo. Siamo sul territorio, H24, abbiamo anche un numero dedicato, rispondiamo in qualsiasi momento, dicevo, numero dedicato, H24, appunto per dare una risposta sul territorio, anche perché, vista la morfologia del territorio, di aree interne, diciamo siamo rimasti un po' isolati, diciamo, dal resto della provincia. Però nonostante tutto riusciamo a rimanere collegati con i quattro sindaci e qui di nuovo gli elogio per aver risposto immediatamente a questa fase, a questo nuovo inizio di un centro operativo intercomunale che viaggerà alla grande sull'area.